Marco Mancuso, Core and Cloud Practices, Director EMEA di Itachi Vantara. Quali sono i fattori chiave per implementare con successo il cuore di una moderna digital platform? Il cuore di una moderna digital platform oggi si implementa sfruttando le potenzialità del multi-cloud e secondo noi ci sono 5 elementi chiave che devono essere considerati per adottare opportunamente la strategia multi-cloud. Prima di tutto è necessario una completa strategia che includa e coinvolga anche il business. Poi è necessario sfruttare e ripensare quelli che sono i portafogli delle applicazioni, sfruttando al massimo quelli che sono i vantaggi dei cloud service provider. Terzo, valorizzare e utilizzare una piattaforma di accelerazione che mi permetta, adottando il DevSecOps Framework, la possibilità di deployare molto semplicemente le infrastrutture in un public cloud, testare il rilascio delle applicazioni e gestirne la parte operativa in maniera molto semplice. E diventa ancora più importante, e questo è il quarto elemento, la sicurezza e la privacy, nonché la compliance di tutte le applicazioni che portiamo in un ambiente multi-cloud. Per questo è importante pensare la sicurezza by design, fin dall'inizio nella progettazione della propria strategia multi-cloud. E non ultimo, la scelta del partner più adatto, perché oggi le aziende non hanno tutte le competenze in casa. È necessario un cambio anche di culturale, non è solamente una questione di introduzione dei nuovi tool, degli nuovi strumenti. Quindi il partner che abbia il servizio, o il set di servizi più completi, che vanno dai cloud advisory ai cloud assessment services, fino ai servizi di modernizzazione o migrazione delle applicazioni in cloud, diventa fondamentale per una strategia multi-cloud di successo. Come sfruttare le opportunità del multi-cloud? Oggi la strategia multi-cloud ci permette di sfruttare al meglio quelli che servizi che giornalmente vengono rilasciati dai diversi cloud service provider. Per poter sfruttare al meglio queste potenzialità, è fondamentale ripensare il proprio portafoglio delle applicazioni. Ripensare il portafoglio delle applicazioni significa, con il supporto del business, avere un approccio critico a quella che è la modernizzazione di queste applicazioni. Soprattutto quelle a legacy, perché sono tendenzialmente le espressioni del business, sono il mezzo con cui riusciamo a interpretare i dati che abbiamo in azienda. Per cui un approccio alla modernizzazione diventa fondamentale. Per farlo è necessario avere degli strumenti, ma anche delle competenze, e soprattutto delle metodologie moderne, che mi permettano di affrontare la trasformazione, la modernizzazione delle applicazioni in maniera efficace, sfruttando il più possibile l'architettura e migli servizi, il serverless computing, e soprattutto valorizzando quelli che sono i dati che facciano parte di una struttura monolitica, portandoli magari all'interno di un data lake, per poi andare a sviluppare soluzioni di business analytics, advanced analytics, che mi permettono magari di lanciare in azienda nuovi modelli di business. per poi andare a sviluppare soluzioni di business.